Paperini Il popolino e altre testate Disney alcune delle quali dedicate al personaggio, inizialmente nato come autoreso mascherato di Paperina, avente lo scopo di vindicarne i torti subiti è stato in seguito trasformato in un personaggio avente le funzioni di giustizia aerea mascherata. Protettore della città di Papi Europa, nell'universo Disney Paperini, è l'unico personaggio che ha un'identità segreta, l'unico personaggio che ha un'identità segreta. .